Musica 3 a 1 avete avuto una marea di occasioni sia nel primo che nel secondo tempo grande lavoro del portiere avversario però insomma alla fine siete riusciti a spuntarla avete avuto un po' di paura a tante occasioni sprecate? un po' di paura si perché come al solito creiamo tantissimo ma poi concretizziamo poco, questo è il nostro difetto che ci portiamo dietro da sempre però alla fine è andata bene, penso che ci sia meritata questa vittoria la qualità è venuta fuori eravate partiti fortissimi in campionato avete avuto una flessione, un girone davvero strano, davvero equilibratissimo siete quasi nella lotta a retrocessione ma come la metà delle squadre più della metà delle squadre di questo girone dove finirete il campionato? spero che adesso riusciremo a risalire come dicevi tu all'inizio siamo andati forti poi abbiamo perso i punti per dei infortuni per delle defezioni adesso stiamo cercando di recuperare la condizione atletica e spero che riusciremo a salvarci con tranquillità ultima domanda ti chiedo su del popolo oggi è stato decisivo con una tripletta se puoi dare un voto sulla sua prestazione ma anche un voto a tutta la squadra oggi un voto grande, buonissimo per Ali del Popolo ma per tutta la squadra perché avevamo bisogno di questa vittoria e l'abbiamo presa grazie mille e complimenti per la vittoria ok, beccan lupa grazie mille e grazie mille e Grazie a tutti